amici sapete cosa c'è in questa cesta no no vediamo guardate guardate le vostre armature vi piacciono è stato un mio regalo troppo bello io ce l'avevo già visto è stato molto bello allora è stato difficile prendere tutti quei diamanti perché però oggi siamo pronti per andare nel nether allora si infatti adesso adesso finalmente riusciremo a portare questo nether eppure in quindi ricordatevi però che se moriamo è finita è finita per noi nella vanilla si può respawnare hai ragione pure tu chiara nella vanilla si può comunque respawnare come ha detto gabrie però qua non si può respawnare mi spiace quindi attenzione mi raccomando ve lo ripeto attenzione non c'è nel senso stiamo tutti quanti attenti perché se no se moriamo poi veramente finisce tutto qua mi spiacerebbe che finisse appena entriamo dobbiamo stare subito attenti perché potrebbe essere molto pericoloso potrebbe trovare sulla lava proprio per questo appunto brava chiara quindi entriamo forza mi sento già in ansia aiuto e anche io allora io sinceramente mi sto creando addosso ok 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 stiamo già detto a denis gli elmetti d'oro il meglio cavolo chiara chiara hai appena detto una brutta parola scusa scusa e ritorniamo subito indietro e perfetto allora abbiamo a dove io per entrare abbiamo di nuovo gli elmetti e guardate questo questo nether allora come nella vanilla adesso dobbiamo trovare i biomi però guardate qua ci si presentano direttamente davanti cioè è stato semplicissimo trovare questo era praticamente vicino al portale adesso siamo nella crimson forest troppo bello si esatto voi cosa ne pensate tunisiani vi piace la crimson forest adesso però devo trovare anche l'altro bioma che non abbiamo trovato nel vanilla la warped forest quella blu la warped forest esatto gabby comunque io non ho i blocchi inizio se questo è un ammazzo denis e carino nomorileo se la vita non 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 scappa scappa ok brava chiara madonna madonna io un po di flash noi abbiamo rischiato di morire grazie si va a via rischiato con quanti quelli sei rimasto metà vita metà vita ok adesso mi sto curando e stavo poi ce l'ho c'è un altro oglin c'è un altro oglin allora tu scappa Gabri mi raccomando vieni qua infatti ma dove stai? allora Gabri sei qua sto dal portale no 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 vieni qua vieni qua devi seguirmi come al solito smettila di andare per la tua strada devi seguire tutti noi perché pensavo che era oddio pensavo che era fatta dal portale eh pensami mai a quando ci fare forza scappiamo 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 allora questo nether duniziani dovete sapere che questo nether è pericolosissimo a differenza di come un altro porcello come un altro porcello io ho tutti i capelli che mi vanno in bocca aiuto oddio no ma poi Dennis eh la Crimson Forest eh la Crimson Forest a differenza a differenza della Warped Forest è meno pacifica cioè la Warped Forest no 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 chiara 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 no il mini porcello il mini porcello madonna no 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 è chiara no 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 ci sei? ci sei? ci sei? sì ci sono tantissimi ok no 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 Gab allora no un attimo un attimo un attimo allora qua non stiamo andando bene forza venite venite due ore e mezzo due ore e mezzo due ore e mezzo aiuto ce lo fai? c'è pure un gas vicino Gabri forza eh allora non è possibile andare avanti così allora prima di tutto prima di tutto incaverniamoci qua dentro per fortuna questa questa caverna c'è stata regalata c'è l'hoblin ah che si fanno con questi pallet questi mini oven ok perfetto adesso vieni incaverniamoci prima che sia troppo tardi ok 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 bloccate tutta la strada qua ok poi torce mi raccomando torce ok se no non si vede niente avete torce voi? no dammi delle torce io mi sono scordato il carbone vieni grazie grazie datemene tante quante ne avete di torce? uno stack Dennis qui c'è del quarzo del quarzo c'è del quarzo? ok perfetto allora prendete il quarzo quello da tanta esperienza sì da tanta esperienza ed è anche bello per costruire però secondo me non è tanto utile in questa serie perché tanto non è che costruiremo che sa quanto allora quindi amici io direi di fare un'altra strategia noi dobbiamo andare a prendere a trovare un altro bioma però noi non lo stiamo trovando qua come facciamo? qui c'è la lava ok io mi ricordo che nella lava si poteva andare con la barca o mi sbaglio no 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 ti sbagli mi sbagliavo io non so perché mi ricordavo questa cosa continuavo ad avercela in mente e a quanto pare mi sbaglio ma infatti non avrebbe senso quindi quindi andiamo a trovare un'altra cosa un altro bioma se posso usare i quei mob per andare sulla lava gli strider ok quali sono? però serve praticamente serve una canna da pesca e beh no niente e allora no niente 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 scherzavo allora dobbiamo circunnavigare tutto quanto perché a quanto pare o circunnavighiamo oppure andiamo completamente dall'altra parte cioè nel senso cosa vuol dire circunnavigare per chi non lo sa vuol dire tipo diciamo capito no andare intorno alla lava no? cioè navigare in circola la lava pensate un po' quanto ha costruito però stiamo attenti all'ogling però Dennis ok allora cambiamo completamente rotta amici però capita ma qua c'è tutta la lava ho trovato ho trovato dell'oro wow ok basta che non c'è tutta l'oro allora lascia perdere l'oro perché tanto non è che serva molto vale sì è vero allora facciamo una cosa prima di tutto ricognizione amici allora qua si può andare in qualche direzione si può andare da quella parte sì esatto andiamo da questa parte che non ci siamo ancora andati esatto bravo cazpiterina stavo pure per dire una brutta parola stavamo stavo per cadere nella lava va bene non ci sono cadute però complimenti complimenti allora tutta esetta perché sappiamo tutti quanti che fai scurreggi di lava quindi eh sì allora no io non mi confondo mai invece qua guardate cosa c'è c'è un purcetto sempre lo stesso bioma cosa no 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 i purcelli no infatti infatti vede con questi purcelli due semplicemente scappiamo tre scappiamo no 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 scappiamo scappiamo veloci seguitemi veloci Gabri no 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 scherzavo seguitemi da questa parte no 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 tennis e la era tutto bloccato come c***o facevo a saperlo no servirebbe un arco pure una brutta parola e ovviamente devo mutarla questa e bloccarla qua cos'è che c'è perfetto della warped forest ancora e ancora vai c'è la warped forest ok no com'è che si chiama questa la crimson forest ok quindi crimson forest madonna stimone che pappole dov'è che siete sono nella warped nella crimson forest ok grazie al cavolo dov'è che siete voi nel senso anche io sono nella crimson forest era prima eh allora cosa avevo detto prima seguitemi ecco qua c'è Chiara sono da Chiara avevamo Loglin dietro ok dove siete dal portale più o meno ah ma il Loglin allora se io vi dico di seguirvi di seguirmi voi scappate comunque anche se avete il Loglin dietro non mi interessa ma non si chiama chiama Chiara se io vi dico di seguirmi attenta che ci vai dietro porca miseria scappiamo scappiamo veloci veloci venite ci siete io si ok perfetto vi siete spenti tutto ad un tratto perché forse è pericoloso questo posto eh eh sì quindi allora venite oh dio tieni pieno scappiamo ecco è per questo Gavri che dobbiamo stiamo scappando perché se no non possiamo affrontarli ma poi è troppo grande tu che dici eh 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 sì è meglio scappare diciamo però è troppo grande sta Crimson Forest è grandissima esatto è proprio eh quindi dobbiamo scappare ancora di più perché è pieno di questi mostri qua in questo cavolo di maialone qua eh ok amici amici allora prima di tutto siamo qua in questo in questo nuovo bioma quello là tutto bellissimo sì quello dove siamo dove siete morti nella vanilla esatto quello l'ho traumatizzata dai magmi e qua vicino c'è pure la Warped Forest mi ricordo pure i nomi pensate pensate voi prendi i funghi sono bellissimi tutte quante le cose mamma mia cose cose guardate guardate questo legno due disegni annusiamolo insieme lecchiamolo tutto il legno che buono questo legno è bellissimo hanno fatto una buonissima cosa secondo me a mettere diciamo nuovi blocchi da costruzione soprattutto nuovo legno in questo minecraft perché è molto molto bello questo legno devo dire sono molto soddisfatto in moda ho trovato una fortezza del nether chiara vieni seguici oddio sto per caderci come hai trovato una fortezza del nether dove è che l'hai trovata si ho trovato guardala è qua sotto è qua sotto non c'è la fortezza bravo 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 oddio il replay ok no per l'amore del cielo qua è pericoloso come al solito perché mamma mia questo nether è impossibile noi stavamo per morire altre 20 volte off camera mamma mia è stato orribile però è stato anche molto bello ed esplorativamente bello eh aiuto allora seguitemi sempre dove siete ma siamo qua eh però dovete stare attenti stiamo facendo un video mannaggia voi allora forza eh oddio seguitemi perfetto bravi bravi come al solito voi dovete seguirmi perché facciamo tutti parte del video allora tunisiani stavamo rischiando di morire malamente ancora una volta ancora una volta e questo nuovo nether io non so è impossibile ragazzi non so voi cosa ne pensate però eh no ma da inizio bisognerà avere l'armatura super mega hyper incantata eh si super incantata però adesso siamo in una serie hardcore gabby caspita facciamo eh vabbè comunque è già tanto se abbiamo questo esatto eh infatti appunto si esatto perché poi ci abbiamo messo anche tanto anche della scorsa settimana dell'altro video vi ricordate non avevamo niente adesso invece si poi c'è pure un bug in questa pre-release vabbè comunque dunisiani grazie per aver guardato questo video se siete arrivati fino a questo punto del video scrivete piglin cattivi perché sono tanto cattivi fidatevi specialmente anche gli oglin anche gli oglin sì anche i porcelloni grossi vabbè i porcelli eh sì e quindi niente ci vediamo al prossimo video dunisiani ciao ciao ciao